vincoli per cui non conviene assicurarsi. La vera partita è che per avere un vero indennizzo, non aver franchigia e non prenderci in giro, bisogna che la polizza sia una polizza che abbia un bel bacino di abitanti, 60 milioni di italiani sono un buon bacino. Questa è anche l'alluvione, la catastrofe di molte opere pubbliche che se ne sono andate, che sono ammalorate, che sono oggetto di smottamenti, di frane e questo è quello che pesa molto.